E' agghiacciante questa squadra, non è una scusa, è agghiacciante che non siano per lei Vole a tutti ragazzi, ben ritornati sul mio canale Oggi siamo ritornati con un altro episodio su FIFA Cops Online Insieme a me come sempre c'è Gigi Ciao ragazzi, ciao a tutti Mamma mia ragazzi, oggi ragazzi giocheremo con l'Italia Un'Italia scarsissima, forse la più scarsa degli ultimi dieci anni Con Quagliarella e Derri in attacco, quindi non so se ci rendiamo conto Mamma mia, Quagliarella, no Fai gol, no, eh, rigore, 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 rigore Non batte Gigi, rigore, mamma mia 3, 2, 1, no Non ci credo, me l'ho parato Ancora, Quagliarella, per il tiro a giro, mamma mia Mamma mia, non ci posso credere, è gialla ancora Giallo qua, non ci credo, non ci credo, mamma mia Buffon Buffon Tra l'altro stavamo sportiello, adesso abbiamo Gigi Buffon Mamma mia che merda, no, lo spazio attivo, il tiro e il gol E il gol ragazzi, mamma mia che errore, sotto l'incrocio Sotto l'incrocio, andiamo a prendere questo 1-0 dal Tottenham Sai che facciamo, dato che lui esce sempre col portiere, la buttiamo un pochettino più dietro Di testa parata, non ci credo, mamma mia, Quagliarella di testa stavo segnando ragazzi No, erano i chiellini, erano i chiellini col naso Il chiello col naso Non va bene ragazzi, non va bene Non va bene parata, ancora a porta libera, mamma mia Che rischio, che rischio, che rischio ragazzi Chi sono, ok, mamma mia Quagliarella, Quagliarella, Quagliarella ancora Quagliarella ancora, non il tiro Fabio Quagliarella 1-1, mamma che gol ragazzi Che gol Mamma che gol, meritato ragazzi, meritatissimo E che da mezz'ora che stiamo attaccando Ci va pure il replay ci sta, perché qua una finta E il tiro sotto l'incrocio di Quagliarella ragazzi Mamma mia, 1-1, ritroviamo il pareggio Mamma mia Ve lo consiglio Fabio Quagliarella Se dovete prendere l'Italia o caga in tribuna Porta fortuna Io l'ho portato in panchina In panchina Porta fortuna Le vici, prima del palazzo, finisce 1-1 Veramente, azioni da entrambe le parti Un commento tecnico di Antonio Conte, ci sta Secondo me potrebbe essere una partita migliore Potremmo sfruttare al meglio la velocità dei nostri esterni alti Però ecco, non so come scardinare la difesa totte nei mesi Perché è un grande club, ecco Sotto tutti i punti di vista Mamma che tiro Le papuglie, la papuglie è proprio fiuta all'hebba Ho capito che ha segnato la... No, no, no Ancora Non ci credo, non ci credo Ma che gol è Ma che gol è ragazzi Ma state scherzando Ma pure Buffon Sul primo palo gli ha tirato Ma stiamo scherzando ragazzi Adesso dobbiamo andare di nuovo a caccia di quello che... Come si suol dire il gol della parità Se batte forse Non ci credo Ma non ci posso credere Non ci posso credere 3 a 1 ragazzi Ma che gol stiamo a prendere? È proprio ridicolo Da ridicoli Schifosi Abbiamo perso questa partita ragazzi Finisce questa partita ragazzi Finisce 3 a 1 Abbiamo perso Ovviamente non è che si può sempre vincere Però ragazzi Torniamo subito al commento dell'allenatore della nazionale Vediamo cosa ha da dire in silenzio stampa È stata una partita pessima da parte dei miei ragazzi Ecco La prossima cercheremo di vincerla Cercheremo però Sicuramente cambieremo modulo Cambieremo calciatori Cambieremo tecnico Cambieremo assistente di gioco Cambieremo tutto Ci sarà una rivoluzione più totale Quindi faremo di meglio la prossima Ed eccoci ritornati ragazzi Sulla seconda partita di questo episodio Siamo sempre con l'Italia E sempre con Antonio Conte Che cerca di trovare scuse per le sue perdite È agghiacciante questa squadra Non è una scusa È agghiacciante che non siano per lei Cioè ora siamo ragazzi Siamo contro il Borussia Mace in Black Ragazzi direi Paragonare l'Italia Al Borussia Mace in Black Guardate È una bestemmia ecco Dobbiamo vincere per forza questo Che poi Antonio Conte si arrabbia a fine gara Ed è Non ci credo Rigore 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 E stavolta lo devi segnare Porca miseria Ed è Ed è sul cacciotangolo Ed è sul cacciotangolo Ed è Ed è palo Ma Ti Ma Che cazzo fai Avete sentito ragazzi Non è sbaglio rigore Mamma mia Ancora Candreva Candreva Non si capisce un cazzo Eh Rigore Un altro rigore Un altro rigore Secondo rigore Voglio vedere Pure in giallo Porca Voglio vedere che fai Voglio vedere Voglio vedere Appena ho visto che si spostava Così ho fatto Mi sono mangiato Mi sono mangiato pure Questo Ero convinto Non lo farò Adesso anche questo 1-2 Ce ne andiamo No Non mi arriva Dalla palla La palla È Palla avvelenata Quindi ha detto Mi avveleno Mi viene le patite E ci se tocca la palla Va bene così No va bene Ma che fai Ma si sta rendendo conto Ma ti sta rendendo conto Che cazzo di gol Abbiamo preso Ti sta rendendo conto Cioè io prendo la palla Il giocatore Guarda E' in post Si porta Il giocatore davanti Me la tocca di tacco E lui segna così Ma sono gol da prendere Non ci credo Non ci credo Non ci credo Meno male Palo Comunque è ferma Io non lo so Fanno questo lancio Non è che vanno a seguirli Niente E' gol E' gol E' due E' due E' uno Chi ha seguito Due E' una golla Due a uno ragazzi Mamma mia Che è passato Mamma mia Che è Gli hai bucato Delle mani di testa Manchi quanti Della Michelin Servivano Al termine Di un'azione Manovrata Al meglio C'è da dire No Non ci credo No Non ci credo Fai la male Signora 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 Tu che stai là sopra Che hai visto Arrivare questo pallone Da là sopra Lo sparo No Non ci credo No No Arbitro Arbitro Parliamo Arbitro Arbitro Parliamo Arbitro Parliamo No Florenzi No Espulso Florenzi No Espulso Se lo merita Perché è un cesso Finisce il primo tempo Ragazzi Finisce Due a uno Per noi In dieci uomini Siamo in dieci ragazzi Stiamo dominando una partita Con l'Italia Però ci sta pure Perché il Borussia Non penso sia una squadra Ai livelli dell'Italia Ma comunque ragazzi Stiamo giocando bene Eccolo qua Grande Stefano Eccolo la 3 a 1 3 a 1 Ragazzi Mamma mia Come ti ho visto Con il cerchio Che poi è pure Pura culo Perché è passato Sto palla Non so come Se gli insegniamo Il 3 a 1 Ragazzi Merita Andremo Ragazzi Sta giocando Da terzina Addirittura Cross Di testa 4 a 1 Chiudiamo la partita Chiudiamo la partita Ragazzi Chiudiamo questa Cazzo di partita Finalmente La meritavamo Ce la meritavamo Ragazzi Stiamo giocando in 10 Stiamo giocando veramente bene I gol bellissimi Che intervento ragazzi Mamma mia Questo Non va bene Questo Rosso Ma che è Un altro rosso ragazzi Giochiamo in 9 Ragazzi siamo in 9 Che espulsione è Mamma che bel gollo questo Questo è bellissimo ragazzi Niente da dire 4 a 2 4 a 2 Però siamo in 9 ragazzi Siamo in 9 Ora facciamo qualche cambio dai E calci di punizione ragazzi Verratti Mamma mia Verratti Di testa fuori C'è da dire che l'ha batto col tiro La punizione Oh caga Il tiro Non ci credo Non ci credo Ma che è successo ragazzi Mamma mia Oh caga Oh mamma mia Che tiro Da circa 40 metri Tira e prende traversa Lo vede Oh caga che solo E solo caga E il tiro Parata La svilgolettata Di sto cazzo Questo caga vuole un posto Da titolare vuole Mamma mia Mamma mia Buffon Cosa vuole Buffon Mamma mia Tattatresimo Stiamo cercando pure noi Di mantenere il vantaggio Del 4 a 2 Siamo in 9 Ricordiamo quindi Con due espulsi A causa di Terremoti Dell'Aula No siamo soli Mamma mia ancora Buffon Mamma mia Cosa ha parato Ci sta sembrando la partita Buffon Veramente Buffon The best Portier ever Goalkeeper Che lini Che cross Che cross di chellini Che cross di chellini Di testa Parata Ancora No 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 4 a 3 ragazzi 4 a 3 3 a 90 Non possiamo Non possiamo Veramente perdere Questa cazzo di partita O almeno pareggiarla Perché veramente Abbiamo preso un gol Da schifo Non ci sta questo gol Non ci sta questo 4 a 3 Buffon Veramente ha cercato di fare Di tutto e di più Perché veramente Ha salvato Quasi una partita Possiamo dire Teniamo palla ragazzi Finisce questa partita Ragazzi Finisce 4 a 3 Per noi Ricordiamo che eravamo In 9 A giocare Abbiamo sudato Questa partita Abbiamo vinto La prima partita Con l'Italia Ragazzi Come sempre Vi invito a lasciare un mi piace A condividere il video Trovate tutti i link Dei social In descrizione Restate attivi sul canale Per altri video Con FIFA La prossima dose Da Gigi Che ringrazio come sempre Ciao ragazzi Grazie a tutti Bella ragazzi Ciao